Sale la distanza da 3.500 metri in formula, sempre dell'eliminazione nella prima batteria. Asia Negri e Aida Ciurleo sono in 17.9 in finale, anzi al turno successivo. Al passaggio mancheranno 7 giri e suonerà la campana. Dopodiché 2 eliminazioni doppie e poi eliminazioni singole. Da 17 devono diventare 9. Dentro Aida, dentro! Subito eh! Protagoniste nelle prime posizioni, Valentina Granò, Asia Negri, atlete che abbiamo già imparato a conoscere su pista. Sono un bel gruppone, cominciano ad andare veloci. Abbiamo parlato tanto di questa categoria. Erano in 142 le iscritte alla gara su pista. Poi pochissime defezioni. Sicuramente la categoria più numerosa e una delle più competitive di tutto il campionato. Giulio non c'è andato, non è partito. Adesso Valentina Granò insieme con Alice Zanoncelli nelle prime posizioni. stanno per invocare il rettilineo di Amrillo e sul passaggio. Doppia eliminazione. Elimination. 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 Dobbou. Elimination. 376 e 379 eliminate. 379 Brivio. 376, 376 Castaldini. E' una bella batteria con diverse protagoniste che puntano alla finale e a ben di più. Come se fosse morse da un cammello di aero. Passano sul traguardo quando ci sarà un'altra doppia eliminazione. A seconda doppia eliminazione dobbiamo verificare se qualche attesa si sia fermata. Su bene, su Aida, su Aida! 165 e 126 i numeri delle atlete eliminate. 165 Frison, 126 Zanoncelli. A passaggio A, meno 4, il gruppo si è già notevolmente assottigliato Valentina Gavannò, Asia Negri, nella parte più avanzata del gruppo. Addirittura in ospedale? Papà, ma tutto funzionato. L'ha chiamato, diceva, ci siamo, partiamo? No, no, no. Poi se non ce l'ha portata, non lo so. Aida, brava, così brava, brava. Eliminazione singola, quindi sono terminate le doppie eliminazioni. 205, 205. Avete eliminata tecla Fiorile. Fermarsi, grazie. tre giri al passato una batteria estremamente selettiva con, dicevamo, molte delle protagoniste che rivedremo sicuramente in semifinale e poi chissà, anche in finale è stata indicata una caduta ma dalla nostra postazione ovviamente non è possibile tenere sott'occhio tutto il percorso di 600 metri peraltro privo di ostacoli da visuale ma semplicemente per la distanza ultimi tre giri, eliminazione ce n'è una staccata, tranquilla 69, 69, eliminata grazie davanti sempre Granopo, i Negri, poi i Meucci tra le protagoniste anche su pista queste tre ma anche per le atlete più accreditate è difficile arrivare in finale raggiungere la finale è un percorso arduo anche per le atlete più esperte se non fosse altro per il numero delle concorrenti l'abbiamo detto più volte quando si corre in tante soprattutto su pista anche misura minore qui su strada dove il tracciato è largo e lascia possibilità anche a manovre diverse da quelle su pista è sempre molto complicato meno due dai Aida non volare Aida non volare eliminazione singola 249 249 fermarsi grazie non ci credo che non c'è niente Aida ciurleo 249 ciurleo fermarsi grazie 249 padrone grazie adesso grazie Aida e adesso manca un giro un'altra eliminazione per trovarsi in 10 a passare il turno ok un bacio grazie ma come in 10 in 9 in 9 la prima è quella dell'ultimo giro 133 133 Noemi Libra Alessò grazie sono rimaste in 10 o meglio passano in finale le prime 9 di ogni batteria Asia Negri e davanti subito a far vedere chi comanda traguardo finale di questa 5.000 metri di eliminazione già durissima per essere una batteria con le atlete di valore mi risprintano sono le 9 già qualificate ma Asia Negri Margherita Meucci Giorgia Castorina sono tre nomi che abbiamo imparato a conoscere a Senigallia e abbiamo visto anche sui podi a Senigallia